È giunto il momento di darci dentro con i JavaScript. Ciao, io sono Michele e sono qui per aiutarti a diventare un web developer. In questo video tutorial approfondiremo che cos'è il JavaScript e soprattutto faremo i primi passi nel mondo delle variabili e dei tipi di dati. Questi concetti sono fondamentali in ogni linguaggio di programmazione e ci permetteranno di arrivare a scrivere piano piano le nostre prime righe di codice. Impareremo che cosa sono le variabili e quando utilizzarle, che cosa sono le costanti e come utilizzare i vari tipi di dato può creare chiarezza nel nostro codice. So bene cosa significa imparare un linguaggio nuovo, per cui andremo piano piano e passo passo e partiremo proprio dalle basi per non lasciare indietro niente. Però ricorda, non basta seguire solo questo tutorial, devi fare pratica. Se conosci già qualche altro linguaggio di programmazione, benissimo. Questo sarà un veloce ripasso e magari con qualche dettaglio di come JavaScript usa le variabili. A che cosa ci servono le variabili? Beh, semplicemente per tenere traccia di un qualcosa, per esempio di un risultato di un calcolo, di un input di un utente, di una scelta di un utente e così via. Quindi con le variabili creiamo quella che è la memoria del programma. Le variabili sono una memoria temporanea, nel senso che se usciamo dal nostro programma, queste variabili perdono completamente di significato, vengono distrutte e il nostro programma non si ricorda più niente. Invece per ricordarsi le cose a lungo termine bisogna salvare in file, all'interno di un database e così via. Ma questo è un altro argomento. Quindi le variabili servono, sono dei depositi di dati temporanei che servono nel breve termine, finché il programma è in esecuzione. Entriamo subito nell'ambiente di sviluppo con un po' di codice alla mano, vediamo cosa sono le variabili e come si dichiarano e come le usiamo. Allora immagina che nel tuo codice hai un valore che deve essere memorizzato per un utilizzo futuro. Memorizzando questo valore lo possiamo recuperare dopo e quindi riutilizzare. Possiamo creare e dichiarare variabili usando questa sintassi. Quindi del tipo parola chiave e nome variabile. Facciamo commento, quindi disabilito queste righe di codice, vengono ignorate dal programma mettendoci queste due barre. Esempio var una variabile. In questo modo ho dichiarato una variabile che si chiama una variabile. Facciamo un altro esempio, var scelta utente. Dove magari vogliamo ricordare una particolare scelta di un utente. O var somma, nel caso stessimo volessimo ricordarci, volevo salvare da qualche parte il risultato appunto di una addizione. La parola chiave var indica che vogliamo dichiarare una variabile, e appunto il resto è il suo nome con cui la possiamo referenziare dopo. C'è un altro modo in JavaScript per dichiarare variabili che non è utilizzando var, bensì la parola chiave let. Let è stata introdotta nelle ultime versioni di JavaScript, in particolare da quella che si chiama la versione ECMAScript 6, e ci dà un controllo maggiore su quando una variabile si dice sullo scope, cioè quando una variabile è valida, è viva ed esiste nel nostro programma. Non entro subitissimo nei dettagli perché potrebbe essere un po' forviante, ma posso dirvi da subito che la best practice non è quella di dichiarare le variabili con var, ma si consiglia di usare let. Quindi gli esempi sarebbero let somma, let scelta utente e così via. Abbiamo visto come quindi dichiarare delle variabili, ma dobbiamo anche a un certo punto cominciare ad utilizzarle. E per utilizzare le variabili significa salvarci dei valori dentro che in termine proprio informatico si dice assegnargli un valore. Ok, quindi assegnare un valore a una variabile è proprio un termine ben specifico che significa salvarci un valore dentro. Quindi per esempio io ho dichiarato, facciamo un po' di pulizia, la variabile somma, ok, io ci voglio mettere dentro somma uguale 12. Quindi in riga 3, in riga 1 dichiaro che la variabile somma esiste, quindi un riservo, un posto di memoria all'interno della RAM del mio PC o del mio tablet o quello che è dove eseguo il programma, insomma ha della RAM, riservo dello spazio e in questo spazio vado a metterci dentro in riga 3 il valore 12. Ok? Una cosa molto importante, soprattutto se sei agli inizi della programmazione, è fare caso che si assegna con il simbolo di uguale. Questo non si legge con somma uguale 12, non vuol dire che la variabile somma è uguale a 12, ma qui leggo a somma alla variabile somma assegno il valore 12. Da questo momento in poi del programma, dentro somma, dentro la zona di memoria somma, troverò il valore 12. L'operatore di confronto, quindi per chiedermi se una variabile è uguale a qualcos'altro, o se due numeri sono uguali, o due stringhe sono uguali, eccetera, utilizzo invece il simbolo uguale, la sintassi uguale uguale, due uguali vicino. Questo è l'operatore di uguaglianza, oppure in javascript esiste anche l'uguaglianza con i tre uguali, hanno una leggera differenza, la vedremo in un altro episodio. Un altro modo per assegnare un valore a una variabile potrebbe essere questo, quindi let esempio uguale, ciao, questa volta vado con un valore testuale, una stringa. Qui sto facendo un qualcosa di diverso, inizializzo in maniera esplicita la variabile. In questo modo, nel momento in cui vado a dichiarare che esiste, anche subito dopo ci vado a dichiarare, ad assegnare un valore dentro, tutto nella stessa istruzione, due in uno, con gli sconti. Quindi, let esempio e let esempio e esempio uguale a ciao, queste, la riga 6 e la 8 e la 9 combinate sono equivalenti, ottengo lo stesso risultato, però questa è più compatta. Vogliamo provare un attimo questo codice? Facciamolo subito direttamente dal nostro browser, quindi developer tools. Ho aperto il mio browser, una sessione pulita, faccio F12 per aprire il developer tools, facciamoli belli grandi, tanto abbiamo bisogno solo di quelli, non della pagina web, mi metto in console. Qui posso già scrivere del JavaScript, quindi per esempio facciamo let somma uguale 12, se io scrivo somma, lui mi dice la variabile somma contiene 12. vedete se riesco a fare un po' più grande, sì, con ctrl più sto ingrandendo, benissimo, ok? Un'altra cosa, facevamo let parole uguale ciao, scrivo parole, e mi restituisce, quindi funziona sia con i numeri che con i valori testuali, le stringhe. Possiamo vedere anche l'equivalenza di prima, quindi se faccio let numero uguale, let numero e poi faccio numero uguale 12, mi viene fuori, ok, numero 12, posso fare anche let prova uguale 24, quello che è, si scrivo prova 24, quindi vediamo che la livello di significato è esattamente la stessa cosa, questa è una inizializzazione, faccio tutto in uno, ok, qui ho fatto in due passaggi. pulisco la console, potrei cliccare qui, ma mi piacciono un sacco le cose da tastiere, quindi faccio ctrl L, guarda qui, le pulisco tutto, via, ok. Le variabili hanno delle sorelle, le cosiddette costanti, sono sempre delle zone di memoria che io vado a riservare per il mio programma, qui do un nome e assegno dei valori, ok, però una variabile, una volta che è stata inizializzata, non può più cambiare, appunto, è una costante, si dichiara scrivendo const, tipo, poi gli do il nome, che ne so, pi greco, e ci metto 3.14, ok, una notevole approssimazione direi, sappiamo che a questo punto io nel mio programma posso referenziare questa variabile, quindi la posso utilizzare, e otterrò il valore 3.14, per esempio, se scrivesse pi greco, ottengo 14, però ci sono delle leggere differenze con le variabili, quindi quando io dichiaro una costante, la devo inizializzare subito, non posso farlo in due istruzioni, come ho fatto prima, quindi se faccio const, provami, e faccio invio, ottengo un errore, perché appunto la costante deve essere dichiarato subito il suo valore, ctrl l pulisco, e facciamo anche la prova che appunto a pi greco, posso provare a segnarci 123, ma di nuovo mi viene dato errore, perché sto cercando di cambiare il valore di una costante, e non si può fare. Ok, ora facciamo finta, facciamo un piccolissimo programma, un piccolissimo 4 righe di codice, che ci fanno provare l'utilizzo delle variabili, e delle costanti, facciamo finta di avere un gioco, di tenere traccia di punti di un giocatore, lo facciamo partire con 100 punti, poi gli togliamo 50, e mostriamo l'esito dell'operazione. Quindi cosa facciamo? Andiamo a dichiarare una variabile, che rappresenta il punto iniziale con cui il giocatore inizia questo gioco, andiamo a rappresentare con un'altra variabile il giocatore 1, che lo facciamo partire con i punti iniziali, appunto 100. A giocatore 1 facciamo finta che perde una partita, gli vengano tolti 50 punti, e mostriamo a schermo l'esito del calcolo. Ok, possiamo prendere questo, faccio copia, lo mettiamo nei developer tool del browser, faccio ctrl-v in colla, faccio invio, e abbiamo ovviamente il nostro 50. Come possiamo migliorare questo codice? Beh, i punti iniziali, visto che non cambiano mai, è magari un'impostazione per definita del gioco, lo possiamo trasformare in costante. così siamo sicuri e anche preveniamo cambiamenti accidentali in altri punti del codice. E quindi abbiamo identificato un miglioramento, cioè da quello che era all'inizio pensavamo fosse una variabile, in realtà ci viene meglio l'utilizzo di una costante. Bonus point, se scriviamo la costante così, i punti iniziali, di solito è una convenzione, ma non è un obbligo, le costanti sono scritte tutte in maiuscolo, perché appunto di solito salta all'occhio, che sono costanti e non variabili. Ora che abbiamo fatto un po' di prove con le variabili, entriamo un pochino più nel merito, e vediamo quali sono i tipi di dato con cui possiamo lavorare in javascript. Appunto, sono chiamati data types o tipi di dato. Sono importanti a tutti i livelli dello sviluppo software, perché i developer utilizzano i data types in maniera corretta per prendere decisioni riguardo a come viene scritto il codice e come il codice si dovrebbe comportare, perché avere a che fare con un tipo di dato piuttosto che un altro, quindi numeri o stringhe, fa una sostanziale differenza e bisogna esserne consapevoli. Un tipo di dato viene anche di solito chiamato tipo di dato primitivo, perché sono veramente a basso livello e sono tra le funzionalità di base che un linguaggio, in questo caso stiamo parlando del javascript, mette a disposizione. I tipi di dato appunto di base primitivi del javascript sono la string per il testo, abbiamo string, abbiamo number per numeri, begin per numeri grandi, boolean per valutipo vero o falso. Nella sezione precedente abbiamo visto l'utilizzo delle variabili, quindi quando abbiamo fatto let numero uguale 123, ok, questa qui è un tipo numerico. Scrivere invece let string uguale ciao ci fa lavorare con un tipo di dato stringa, quindi per del testo possiamo usare i doppi apici oppure gli apici singoli, è uguale. Possiamo concatenare stringhe e per fare per esempio let che ne so, ciao Michele, possiamo concatenarle, cioè agganciare o mettere in sequenza una dietro l'altro e fare string più string 2, questo le concatena, ve lo porto nel browser, che così lo proviamo immediatamente, ok, e come vedete string ciao, string 2 Michele, string più string 2 facciamo Michele, quindi questa non è una somma, il più non è un operatore di somma, ma diventa un operatore di concatenazione. Infine abbiamo il tipo di dato booleano, quindi per esempio let vero fal booleano, ci scriviamo true, vuol dire appunto vero, let altro booleano false, e abbiamo utilizzato quindi le variabili tipo booleano per contenere vero o falso, se scriviamo booleano, ecco true. ricordiamoci che l'operatore per fare delle espressioni booleane, quindi verificare se qualcosa è vero o falso, quindi questo è uguale a quest'altra, questa variabile è uguale a quest'altra, dobbiamo utilizzare l'uguale uguale, per esempio 1 è uguale a 2, è automaticamente falso, 1 uguale 2 è un errore, quindi questo significa che il valore 1 sto cercando di assegnargli il 2, questo non ha praticamente senso, ok, quindi 1 è uguale a 2, ops, falso, 2 è uguale a 2, assolutamente vero, ok, quindi posso fare anche let string uguale ciao, let string 2, facciamo così due string uguali, se vado a chiedermi se string è uguale a string 2, è assolutamente vero, perché contengono lo stesso valore. Infine abbiamo il tipo di dato booleano, quindi per esempio let vero fal booleano, ci scriviamo true, che vuol dire appunto vero, let altro booleano false, e abbiamo utilizzato quindi le variabili tipo booleano per contenere vero o falso, se scriviamo booleano, ecco, true. Ricordiamoci che per fare delle espressioni booleane, quindi verificare se qualcosa è vero o falso, quindi questa variabile è uguale a quest'altra, dobbiamo utilizzare l'uguale uguale, per esempio 1 è uguale a 2, è automaticamente falso, 1 uguale 2 è un errore, quindi questo significa che il valore 1 sto cercando di assegnargli il 2, questo non ha praticamente senso, ok? Quindi 1 è uguale a 2, ops, falso, 2 è uguale a 2, assolutamente vero, ok? quindi posso fare anche let string uguale ciao, let string 2, facciamo così due string uguali, se vado a chiedermi se string è uguale a string 2, è assolutamente vero, perché contengono lo stesso valore. Molto bene, siamo arrivati in fondo, questi erano dei passaggi fondamentali per cominciare a mettere i mattoni dell'utilizzo del JavaScript, con i tipi di dato, le variabili e le costanti. So che all'inizio alcuni concetti potrebbero sembrare un po' strani, l'assegnazione, l'uguaglianza, il concatenare e così via, basta solo un po' di pratica e prenderci confidenza, dopo un po' diventerà tutto più chiaro. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale, così sarai notificato quando arrivano nuovi video. Grazie a tutti.